E' l'epoca dei bambini prodigio. Mai come il giorno d'oggi ci saltiamo per quanto un piccolo riesca a dominare i suoi suoi coetanei. Soprattutto in America, ogni occasione è buona perché si è nato il nuovo Usain Bolt. Se vi devo dire la verità, a me questa cosa lascia, quantomeno, perplesso. E non sto parlando del fatto che questi bambini si sottopongono allenamenti pesanti e inadatti alla loro età. No, il punto è un altro. Io sto pensando a tutta la pressione che i genitori o chi per loro gli stanno mettendo sulle spalle. Pressione che questi bambini non possono sopportare. Punto. Qua non potete ribattere, non hanno il cervello formato degli adulti. Alle prime vere difficoltà del loro percorso questi piccoli campioni verranno travolti da una marea di stress e nella maggior parte dei casi non ce la faranno. Piccoli Bolt? Non è il termine corretto. Questi sono più forti di Bolt per l'età che hanno. Così come c'erano bambini prodigio altrettanto forti prima che Bolt nascesse. Qual è la differenza col mondo d'oggi? Che se un bambino batteva tutti nel campetto della parrocchia aveva ancora qualche anno per poter sognare prima di mettersi alla prova da maturo in pista e scoprire qual è del suo vero valore. Mentre adesso, a sette anni, capita ad avere mezzo milione di follower su Instagram. È così che va il mondo.